Le varietà di brachiscome della nostra gamma Sir Daisy White Improved, Sir Daisy Strawberry Pink e Mauve Mystique sono eccezionali. Già in primavera si presentano con un ottimo vaso sia per il vaso piccolo fino al vaso 14. Sono precoci in fioritura e poi procedono in fioritura tutta l'estate, sono sempre belle così, scegliendo tra una pacopa e una brachiscome, la brachiscome non fa problemi ed è sempre bella, provatele.